La guerra è nelle tue mani, tu puoi riconciliare i tuoi parenti di sangue facendo cessare subito le sofferenze tue, mie e di tutta la città. La ricchezza, la ricchezza è la cosa che gli uomini onorano di più e fra gli uomini è ciò che procura il più grande potere ed è in cerca della mia ricchezza e io sono venuto qui al comando di un esercito immenso. Madre, un uomo nobile come me, sei povero, non è niente, non è niente. Madre, un uomo nobile come me, sei povero, non è niente. Eccomi madre, sono venuto soltanto per farti il favore che mi hai chiesto. Che facciamo? Qualcuno inizia a parlare. Sono pronto ad ascoltare i tuoi...